Salve, siamo Dylan Dog. E' Ringo Starr. Quante volte vi siete trovati in una situazione del genere? Quante volte? Molte. Tante. Tante. Moltissime. Moltissime. Tantissime. Ma da oggi c'è la soluzione al vostro problema. Perfede, 31 marzo, al Teatro Dante, ore 21. Grazie, e comunque io sono Barbie, insieme. Ce la possiamo farcela! Sì sì, ce la possiamo farcela. Grazie. 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 Grazie.